Oggi vi raccontiamo la storia di un piccolo cane che si ritrova in una situazione incredibilmente delicata in Cina, incastrato nei servizi igienici di una casa. Ma prima di vedere il video completo, ti ricordiamo di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace al video per supportare il nostro canale. I nostri eroi di tutti i giorni, i vigili del fuoco, vengono chiamati per questa insolita operazione di soccorso. Nel video si può vedere il piccolo cagnolino con la testa a malapena visibile sopra il livello dell'acqua e il pelo bianco completamente arruffato e sporco. La tensione sale mentre i soccorritori cercano di estrarlo, con le grida del cagnolino che diventano sempre più strazianti. Ma, grazie all'abilità e alla tenacia del corpo dei vigili del fuoco, il piccolo viene finalmente liberato. Va tutto bene, piccolo amico, sei libero, sussurra uno dei suoi salvatori. Il cane che appare ancora scosso viene riportato nelle mani della sua proprietaria che sembra entusiasta di ricongiungersi con il suo peloso. Un grazie speciale va ai vigili del fuoco che hanno lavorato incessantemente per garantire un lieto fine a questa storia. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video. Grazie per aver guardato il video.